Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi siamo qui per fare il pre-partita di Parma-Roma che giocherà oggi alle 15. Partiamo con le formazioni. Io direi che questa è una tra le ultime opportunità se non l'ultima, anche se sarà una partita difficile. Roma secondo me con un 3-4-1-2. Con in porta Paolo Lopez, difensori centrali che sono Combulla, Cristante e Ibanez. Esterno destro Karstorp, due centrocampisti centrali di Avarà e Villar. E invece esterno sinistro Bruno Perez. I due trequartisti sono El Sharawi con di fianco Pedro, quindi El Sharawi e Pedro. La punta è Majoral, che io direi di stare molto attenti a Majoral perché all'andata ci ha fatto una doppietta, quindi attenzione. Le indisponibili della Roma, che per una volta sono quasi tanti come quelli del Parma, se non di più, sono Smalling, Mkhitaryan, Joan Jesus, Vertu e Zagnolo. Passiamo al Parma con 4-3-3. Importa Sepe, che ci ha rovinato la partita della scorsa settimana, perché non è parata una, o se no ha fatto errori su errori. Conti, che rientra dall'infortunio. Bani, che torna a giocare. Osorio, che comunque fa sempre bene, di solito quando gioca. Pezzella. Pezzella gioca perché si è infortunato Gagliolo, ma comunque di solito entra e gioca sempre benissimo, quindi perfetto Pezzella. Centrocampo con Kurtic, che ha fatto un gol la scorsa settimana. Poi c'è Brugman e Hernani al centrocampo. Vi ricordo che Cusca è squalificato. Attacco con Karamon, Dennis Mann e Mihaila. Adesso vi dico gli infortunati, così poi vi spiego l'attacco meglio. Allora, le indisponibili sono Nicolussi, Gervinio, inglese e qui si spiega diciamo Men punta invece che Ala. E anche Cornelius infortunato. Poi c'è sempre Cusca infortunato, Jacoponi infortunato e Valenti infortunato. Quindi anche noi diciamo che non siamo senza infortuni. Mi raccomando lasciate like, iscrivetevi al canale e sempre 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 Forza Parma! Ciao a tutti!